Buongiorno buongiorno a chi è in live Ho deciso di iniziare un pochino prima in modo da fare un po' di Q&A E aspettarvi Così dai Andate con le domande intanto Che faccio la storia Buongiorno Buongiorno Mi metto più vicino qua così ti leggo meglio Che titolo eh Che titolo super titolo Ciao Taz Ciao buona pesca Allora Spiegami che cazzo è possibile E quando va meglio va bene Pico 12 spettatori così Killer Pozzino Pozzino vieni a farmare marmorate Siamo sempre in live Eh sì Mi annoio Ho le mani distrutte dopo due ore di autocostruzione esche Un po' di pausa e un po' di relax ci vuole Un po' di pausa e un po' di relax ci vuole Un po' di calcio Così 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 Grazie. Allora, arrivo, arrivo, perfetto, non mi fa entrare, mi metto in vocale 1 e spostami, ah ok, beh, vero, vero, salve Gianmarco, ciao Daniele, ciao Lorenzo, che scheda video hai una GTX 1650 da 4 giga, qualche volta appena finisce questa quarantena verrei a Milano, è uno delle mie cose, il problema sapete qual è ragazzi, che io lavoro, devo andare a lavorare, eh già. Ehm, io lavoro, comunque salgo, puzza, allora, perché no? 4.000 è di licenza? E 4.000? No, perché a me scada le 16.08, io sono ancora qua, cazzo. Ma sai che continuerai io? Ma perché io non ho abbandonato ieri, ho capito, ho scoperto che si può chiudere il gioco e non ti esce dalla partita. Ma non lo so che devi fare. No. Eh no, perché io facevo così una partita giusto per giocare e chiudevo, basta. Ma perché non lo voglio avere, non lo avevi detto. Ehm, cioè io potrei anche farlo, oppure andiamo al Munkat, fa, la, eh, dimmi cosa mi serve, io ci sono, va bene. Ehm, un attimo. Ehm, una spinning? No. Allora, fammi vedere. Ho recuperato praticamente la licenza e qualcos'altro. Se avevo la trota marmonata che mi recuperava un altro po', ero un buon punto. Minchia, 700 e passa cose che ho la NASA troppo piccola. Tiene al massimo 3,5 kg. Alla fine quella, la marmonata è unica, guarda che tirava meno rispetto all'altro pesce che avevo inganciato e che ho perso. No, a me no. Un attimo che leggo. Allora, ho la 7,14 che è quella che ho usato con le marmorate e... No, da spinning. La 7,14... Ho la 7,25, power, medium, light. La value cast è 160. Oh, ci vuoi guardare. 7,25. Eh, però è power, medium, light e action, moderate or fast. 11.000... E qualcosina. Quasi 12. Poi stare, zetto, un attimo che rispondo alla chat. Allora, ma quando avevi gli iscritti che ho io, come ho fatto... Eh, ho fatto video. Quando vai a pescare in mezzo alle Pantegane a Venezia... Boh... Penso verso settembre. Ok. Allora, scusami, intanto faccio una cosa. Ci spostiamo. White Moose. Mi costa 7,500. No, scherzavo, 7,800. Prendiamo la licenza. Allora, intanto metto... Ok. Allora, compro la licenza. Avanzata. 4.000. Cazzo, sai che non mi bastano i soldi, forse? Sono qua... Allora, aspetta. Eh, io ho 11.000. Allora, fammi fare un attimo. Eh, 7.000 e 8.000, cos'era? Sì. 7.000 e 8.000 e 4.000. Di licenza. Quindi siamo sui 11.800. Quindi... Di 21 banconote. Cioè, che se mi dicevi, stavo là, facevo due pesci in quei 5 minuti e ce li avevo. Non puoi fare due basso. Posso fare due basso? C'hai ragione. Eh... Allora, aspetta. Vengo anche a parte di compagnia, dai. Allora, cambia tutto. Vabbè, dovrei cambiare il titolo alla live, ma non posso. Non sono su Twitch. Allora, dovresti mettere, dovresti mettere, tipo, troppo e distrago. E quindi, avrai punti. Ho capito, però, non è come su... Su Twitch che... Due secondi lo faccio. Allora, intanto faccio una cosa. Allora... Allora, dov'è... Dov'è che ho trovato l'AIMS Titanium Leaders? Quattro chili e passa. Ti ho mandato la foto. Anche la mia. E... Qual è che devo prendere? I 0,1? Lunghezza e testa di 3,5 kg. No. Di più. Allora, qual è il fallo rapportato alla tua lenza? Allora, metto i 100 kg. Vediamo, dove sono i 100 kg. Allora, un po' bisogna di coprare meglio, un po' più, ci farò. Stonks. Allora, quelli da 5,8 kg, prendo. Diametro 0,13 mm. Eh, anche io. Eh, perché è quelli... E' gli unici che ho sbloccato, perché devo aspettare il livello 26 per sbloccare quelli che sono più forti ancora. Prendiamo un po'. No, perché... Eh, come si dice, io ho la lenza che tiene... Ho un controllo carbon da 5,5 kg. Ah, ok. E quindi... Aspetta. E dimmi una cosa. No, io metto allora... Metto una treccia, vediamo. Florida 28 ho 42 metri qua. Mi stanno 0,20... Eh... 100 metri. Mmm... No. Ho bisogno di più. Allora, a casa cosa ho? Eh, se no ho una treccia metterei. Vediamo. Braid del... Testo un chilo otto. 2,7 kg, 2,7 kg, 20 kg, 3 kg. No, allora mi prendo anche un po' di treccia, qualcosa. Vediamo. Esche? Cosa mi serve come esche? Beh, narrow spoon... Sono un po' da matematica, sì. No, è che stavo pensando altre cose. Eh, assi, il medium spoon è importantissimo. Cos'è? Medium spoon. Cos'è? Ok, per regalare, se lo volete. Spoon... Si possono regalare le cose. Entendi. No, 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 non so, me lo prendo, me lo prendo, tranquillo. No, se ne vuoi. Sì, è un medium, quello con un soldi con il video. È 14 che ha... Casting. Ah, medium. Ah, per le trote. Da 14... Il 3 barra 0. Quello con le branche e l'occhietto, giusto? Sì, sì. Quello lì. Quello che sembrano quelli della messa. Eh, non lo so. Ok. Ok, dopo mi prenderei, sai cosa? Un arrospoon da... Da 14. Gabriel no. Gabriel no. No, Gabriel no. Non lo trovo. No. Allora. Sai, vuoi che... Sai che l'altro... È tipo strong. Ah, è ok, è qua. Eh, non so se mi scrivessi in Gabriel. No, c'è il verde bianco. C'è, c'è. Allora, vediamo un attimo. Allora. Per i luci cosa serve? Un attimo, un attimo. Zitto! Stai facendo ecuno... Casting Spoon da 14 reali. Ti prendo, no? Ok. Casting Spoon, Casting Spoon da 14. Prendo oro. Poi segnagarci una torta da 20 kg. Eh, quelli su cazzo. White Moose Lake. Tu che lenza usi 5 kg? Sì, 5 kg. No, c'era. Ok. Ehm... Hmm... Plata 4, eh? 30, no non posso comprare Del 20 quanto tiene? 4,5 Un po' più stonico Vediamo un po' cosa c'è 4,5 Fuori del 28 4,5 Sì alla fine devo farmare un po' di più ma vabbè almeno ho tutta la roba adeguata 5 kg, 5 floro Oppure prendo il Il braid da 15 Prendo il braid da 15 o il floro La stessa lunghezza Però prendo il floro che così costa meno Allora mettiamoci il floro Meglio meglio 3 centesimi l'ora 3 centesimi l'ora 3 centesimi l'ora Intanto andiamo a farmare Sì vabbè un attimo a farmare il nostro arre Dopo andiamo Dov'è? 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 Adesso diamo Non abbiamo white news Adesso Non è po' fa male Dunque white news io ci guadagno sempre ormai Eh oh Dabbiamo un po' 3 secondi Perchè? Perchè? Sì dai fa inglese però Dimmi Tad Mai, non si beve mai l'acqua Fa arrugginire E dopo pescate male No scherzo No sei in una stanza piena Sorry L'abitudine di andare a pescare normalmente No io sono sulla tua Stanza Io sono da te Ok No no Allora 11 Aspetta un attimo Cos'è che metto Cos'è che metto Il 9 grammi Time Time 11 E via Corpo umano anche a coca No è spuma Questa è spuma non è coca cola Io ho prima costruito delle schine Per il post coronavirus che fan paura Preparatevi per dei pescioni E sai che esche sono Quindi no Se puoi E leggere un po' più sopra Eh ti ho detto Ti ho detto Io ho fatto video E basta Cioè Minchia adesso lo banno E stai facendo ecco comunque Killer Eh se guardi la live No scherzo non c'è Ok Prova 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 Un po' si Che genio Secondo me 25 kg 3 e mezzo Io direi quindi Secondo me Poi al whiteboard Sul toriano Che Prima metà Ti riempi Nel mio sito Ti riempi Di coca Ci Dovano pesare Di 3 kg L'uno Ti danno Di 400 Ok E quando ti riempi Il coso Di luci Passiamo Passiamo A prendere Le trote Solo per Solo per Prendere Gli xp Vediamo Un attimo Perché la trota 3 kg e mezzo Non se la fai stare Quanto è Che fa la trota La trota Di largo Saranno anche 5 kg Cioè no Ma dico La media 5 kg Circa Gisbo Con le 3 Ce la faccio 4 e 5 Ma invece Beh No vai ma Anche Anche in uscita trofeo Non ti puoi tenere Sai Ma allora Mi faccio la licenza Semplice Che costa di meno Che è praticamente La stessa cosa C'è anche scritto Sul titolo Fishing planet Il gioco Il gioco Da dei gamers E fino a 5 secondi fa Stavo giocando A DOOM Oh killer 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 Preso Ieri sera Ho giocato un po' A Rainbow Adesso che ho La nuova scheda video Ieri ho fatto 7 kill 5 kill E 6 kill Sì Sono passato a fare 2-3 kill La partita A 5-7 Ho preso Che la prossima Cominciano le live Di Spadefishing Italia Mi ricordo Davvero Sì No Eh sì Sono già andato A White Moose Lo senza cavetto Meglio di no Sai Eh no A Luci senza cavetto No eh Se voglio Non te lo togliono Questo sarebbe Casa tua Della madre Ma cosa Bravo E stai zitto Ma anche io avrei un po' Di compi di affari Faccio stasso Quanti soldi devi fare C'è Eh abbastanza E il cavetto E il filo E Quanto è che costa Ma da Ah che Che borello ho preso Ah un cettino Allora fammi vedere Allora mi servono Conta 12.000 Sono a 10.000 E 6.90 Parla a quello che mi ha fatto Andare in perdita Cioè che Se facevo quei due pesci Là in Italia Ero a posto Sì ma in Italia vai per andare in perdita Cioè è troppo costoso Cioè 4.000 euro di licenza Anche la No secondo me se avessi fatto un altro giorno in Italia Ci sarei rientrato No Sono 7.500 Sono 10.000 Contando che fai Sì no 4.000 Sì mi hai distrutto le orecchie Se conti che Bene o male Stai sui 4.000 5.000 al giorno In 2.000 In 3 giorni Ti recuperi Sì Più o meno Io penso di avere il foro troppo grosso Che non attacchino Quindi provo a far così Io ce l'ho trago 30 Eh anch'io Ne prendo uno a lancio Guarda quanto in cosa L'oro Ma a te piace imbobinare il fluoro? Io non ho Nessun Nessun mulinello col fluoro No scusate Due mulinelli se li ho abbastro Sì ma Per esempio Agli americani Si a casa Non so però Non ho tutta quella sensibilità Che vorrei avere Ti dirò Se devo usare Se devo usare un monofilo Io Dovresti usare molto più Scegliere il fluoro No io è florine Ma florine non era più simile a un preciato Scusa Florine è È un misto tra fluoro carbon E nylon Quindi è senza memoria Resistente all'abrasione E No è non elastico No è florine Ma il fluoro è un po' elastico effettivamente No è elastico Minchia Ma io uso il fluoro coated Per fare i terminali Io uso il florine Perché costano me Cioè costa come il fluoro Per fare i terminali Però Tiene di più E mi ha salvato il culo In più di un'occasione Devo dire Avere Avere fluoro coated E non fluoro carbon Sai Perché dice? Tipo quando ho preso il basso Quest'inverno Perché? Il fluoro dello 0,18 Me l'avrebbe spaccato Dove l'ho tirato fuori Cazzo Ma Il fluoro dello 0,18 No Beh Il fluoro Non so Il fluoro Basta Ti dico che Col fluoro Dello 0,16 Ci ho tirato fuori Una carpa 7-8 chili In fiume In mezzo agli erbai Quanto tiene? 5,7 Eh Tanta roba Imi ottiene sui 6 chili No scusa Il 16 È 4,8 Beh ma è tanto Pare che sono 0,16 Sì Lo so È già conveniente Quasi quasi Un pensiero Ce lo faccio Di che marca lo usi? È il Gorilla Silver Ah Ok Ed è invisibile Come il fluoro Dei du Sì Non fa neanche riflesso Questo non so dirtelo Però Cioè È quello che uso sempre io Quello che ho sempre usato Ce li ho i bass jig Se vedete Per chi guarda Ma che cazzo È che di qua C'è il computer Dove vedo la chat Goldone Bellissimo Fare i pesci a vista In questo gioco A parte quando Non si appendono Perché hai scriptato No Tanto che hai scriptato Secondo me Perché quando sei a vista Tendi a andare Da tutta E la fergata Io no Trovate le trotte E sbammo un sacco Col crankbait Abbasso No invece Infatti che ho la canna D'azione è fasta Devo prendere Devo prendere il crankbait Comunque ti direi Di usare la 725 Sopra che sarebbe Di tirare fuori Una trotta Da Un metro Un metro E dieci Con uno Con un Sì con una 725 What's up Finito gli 80 metri Di filo 80 metri Di filo Eh su quello Da casting Sì Eh non mi ricordo Cos'è Il Atonei 2000s No è meglio Atonei 2000 Normale Il mio è sinking S vuol dire sinking Nel mondo della pesca Vabbè sarebbe una grande cosa Per gente che pesca Come Gabriel Che rischia di perdere Le cani in acqua Ah no anche che te Non dovrebbe essere Shallow Scusa Non lo so Se potrebbe essere A parte che Non ho mai sentito Un mulinello a casting Con la sigla Di più di Di tre numeri Eh quello è vero Però c'era Perché Grae Ti aveva cacciato Un pesce Hai visto Sì ho visto Ho visto A top water Eh Posso vedere Di finare Un po' Cos' Posso vedere Di fare Commenti Brutti Ale Gli dono solo Dei Fisherman Max Non so Capito Un cazzo Il fratello Mi ha detto Di smettere Di donare So Verso Twitch Devi fare Qualcosa di diverso Devi donare I suoi di soldi Non i tuoi Io prendo i soldi Dalle streamer di Twitch Altro che donarli Ah Ok Tu sei Una streamer di Twitch Io no Gabriel Quando è che ti metti A fare Squat In live Beh quelli Quelli dovrei farli Eh No no Devo fare Leg day Eh Devo fare Leg day Da quanti soldi Tieni Un attimo Che ho preso un pesce Finalmente Ma si può dire Terrone Mi dissocio Mi dissocio Dopo la N-word È la N-word Però Italiano È la T-word Sì Io ho il pasto Per dirla Perché ho amici Del sud Max Max Non lo so Oh Max Non lo so Non lo so Si può dire No Si può dire Una parola Con la D-live Dio Non penso Non penso Dildo E basta C'è di P-I-O No Ah ho capito Quelle parole Manco Manca ancora Mille Mi mancano Desenzano Ah desenzano Eh no 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 Brutta parola Brutta parola Aspetta D-I-L-Dio Gabriel Basta dire Questa brutta cosa Devo recuperare Quei soldi Per poter giocare Ma cosa stanno La D e la C Dei mulinelli Di Shimano Di si Non sai che cazzo Vuol dire di si Dio No Lo so Che è il digital Control Perché stanno Il micro Chips Che regola La bobbina Al posto tuo Sai No Regola anche Il filo C'è in base Al filo In base All'esca Adesso Lo butto fuori Dalla stanza Poi buttalo fuori Dalla stanza Abbiamo tutti e tre La camicia uguale Mi and the boys Oh yes Yes Ho attivato una schermata Che non mi ricordo più Come si Si Allora vediamo Vediamo Come Stai facendo Ti ricordi come si Cava via La schermata Che ti fa vedere In alto Con la cu Con la cu Con la cu Dange Allora Vai da qua al passo Sul crank Sul crank A bite Se magari Se magari Se magari Il killer Non viene A darmi fastidio Sì Grappala qua Americano Ok Tu gli usi mai I vermoni Americani Era meno uno che Era di cercare Da beva Voi vedete Se era Da bottiglia Oh ciao Gabriele Ciao a tutti C'era mio nonno Che stava per entrare Per cercare Se c'erano bottiglie Di vino 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 No Io ho detto No no Ma Qual è la miglior marca Di Shab Secondo voi C'è Dipende Secondo me Secondo me Shadbase Me si No Evito di Ah ok Sì Cosa sono roba Di Aliexpress A forma di Fallica No 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 se sapevi già Cos'era Mi avresti probabilmente Cacciato Quale fa la stessa battuta Sul gruppo Whatsapp Non so Volevo Insieme a Thomas Vogliamo produrre Degli Shad E come li chiamate? Golden Shad Poi immaginare La forma Ci sono dopo I vari Shad C'è lo Shad La fragola Tutti i frutti Aringa Dino Alla cipolla Alla cipolla Esatto Parabrita Killer C'è un certo Matteo Che ti dice Diverti un succo Io vorrei solo Succhi italiani Anche sono italici I luci italici Ma però Salvini Odia i luci del nove E anche i siluri Ma secondo te Salvini Preferirebbe I luci italici O i luci nordici I luci nordici Sicuramente da mangiare No Però sai che va a pesca No Eh Second te preferirebbe E infatti Prendere quelli del nord Per mangiarli Però prima Prima il nord O prima gli italiani Prima gli italiani Non volevi Entrare nel partito Animalista No no ma Entrare a far parte Proprio Non votare E che dipende C'è Che non puoi votare Non puoi autovotarti Che uno Sono dei porci Dade E l'altro Sono solo porci In fondo La scelta di giocarci E' tua Ti voglio far notare Che sei te quello Che? Eh? Ti voglio far notare Che sei te quello Che deve farmare Se si abboccano Mi c'è via i pesci Cioè guarda Guarda Mi lancia sopra Ma quindi Massimo esperto qua Di DC Di Shimano DC Cosa? Quindi Con il DC Puoi fare Bait Finas Quindi Circa Circa Diciamo che Si Ti aiuta Magari Quando Esca Abbastanza Leggere Però Per Bait Finas Ci vorrebbe Proprio Un'attrezzatura Specifica Per esempio Senti Guardi I mulinelli Da Bait Finas Hanno Anche La bobina All'oppe E Cambienza Ridossa Perché Perché C'entra Molto La Cosa Della Bobina Non è Che Automaticamente Il chip Che ti regola L'uscita Del filo Eccetera Puoi Permetterti Di usare Schnelleggere Senza Lasciando bene Senza Imparruccare Interessante Diciamo Dissi Da quel Cosa Serve Per La Lunghezza Del lancio Quando Ci sono Situazioni Poibitive Tipo Quando C'è Il vento Ah Tipo Tutte le Volte Che Vado Io A Pescare Sì Tipo Quando Vado A Pescare Rana Che Trovo Sempre Il vento E Devo Schippare Sotto Le Cannelle Sì Sì C'è Bait Finesse Per Farti Capire Beh Oltre A Voler Cercare Che E' Importante A C'è Il Mulinello Con La Bobina Shallow Che Ha Tutte Le Mi Sono Spiegato Bene Comunque Max Mi ha giocato Professional Fishing Gratis No C'è Io Non Mi Spiego Perché Hanno Messo Ci CSGO Gratis Anche Perché Sono Passati Un Bel Po Di Anni E Non Mi Hanno Messo Sega Bus Fishing E Sega Bus Fishing Tipo Costa 10 12 Euro Ancora Che Ha 20 Anni Allora CSGO Ormai Si Sono Accolti Che Non È Che Guadagnano Sì Sì Ma Passato Tanto Il Prezzo Ma Io Non Ho Pagato 14 Euro E Io 12 Tipo Esatto Tu Sei Tu Sei Un Porco Lui Vedi La feccia Lui Lo schifo Lui L'essenza Del Nabbo L'essenza Del Nabbo Chi Le Fai A Partita Su Rainbow Six No Per Iro Tanti Proprio La Solit Tip È Il Male Per Il Tanti Anche Solo Ti Passa Nell'anticamera Il Cervello Che Non Comprino Solit Tip Cioè Se Ti Usare Tutte Quelle Schiard Ti Prendi Un Arby Sei Un Arby Un Un Gambero Della Louisiana Una Con questi che mi parlano sopra Non mi viene in mente Mi mancano Però Mi mancano Una Tubular tip No è violenza sugli animali Ti banno Eh la sfida Marcello Ma perché fai schifo No Ma perché se vuoi farti i soldi facile Allora ti prendi una Cazzo Una Ti prendi la roba da fidere da galleggiante Ti metti a fare l'esplorazione di sto lago Se vuoi fare i soldi in un attimo Io non ce voglio No io ce n'ho una Spigola maculata Che schifo Che traduzione sto ciò Guarda Adesso la cerco Da banno Eh mi ricordo una volta guardavo Rivermont Ti abbanno Eh Come la chiamata? Si beh Cavedano Ah si Cavedano Il Cavedano Che poi lì era preso un Cavedano in mezzo ai percali Dove? A Chernobyl Ah si Prendeva un percali Ha fatto più biodiversità Nella cernobyl Di quanto faccio io Il Nanno Il Nanno Il Nanno Il Nanno Ma ci sono Che cazzo ne so Ah bene Se no Se un altro obiettivo figo è Salmerino in libera Dalle mie parti E anche lì Ti chiedi ma ci sono Non lo so No 300 anni fa Aspetta Per piccoli min Metal jig Ogni tanto Beh metal jig Anche si Però Se devi star là A pescare con hardbait Cioè Uno Fai fatica a pescare Due Fai più fatica a ferrare Perché c'è troppo tempo morto Ci vuole una punta Più rigida Ma se vuoi direttamente una tubola Per cui che mi riguarda Tanto non è che Solo perché tubola Peschi male a gomma Vabbè Cioè No Cioè Io ho usato sempre Tubola a gomma Anch'io Nel senso Però Cioè La tubola va bene Sì scusa La solita va bene Quando peschi sotto I 3 grammi Più o meno 3-4 grammi Ok Ciao Vado Vado Parlanti di protezione civile No Cioè In congo Non arrivano Vediamo un po' Quanto ho? Ho mille Mancano Un'altra Mille Hai sentito L'urlo Di pozza? Sì Sto andando Sto mangiando La crostata io Sicuro Hai appena urlato Eh? Hai appena urlato No ho capito Hai appena urlato Sì Perché mi era caduta C'è C'è sentito Giusto Leggermente Vedi che C'è Gli è caduta In In Una merda Ah ma Sono passati Meno In 5 secondi Non è che Scienza Regola Di 5 secondi E puoi aspettare Anche 3 minuti Prende più gusto Più lo lasci Più c'ha gusto Giusto Poverà Vio Oh c'è Stefano Secondo te Ah Stefano Se tu Ci sei già Quanti altri Stefano Conosci In chat Un sacco In chat mia Uno Ecco Comunque Non Allora domani Super video Ego lì Venerdì pure Venerdì prossimo Non Di questa settimana qua Che sta per arrivare Quello dopo arriva Il super mega unboxing Sì Cos'è che hai comprato Eh segreto C'ho provato Eh Non c'hai provato Vuoi dirci almeno Quanti soldi Allora te C'è stato un piccolo Cambio di programma Perché non ho abbastanza soldi Cioè mancavano Pochi soldi Però Ho dovuto prendere Della roba Pensiamo solo L'hai dovuta pagare O no La spedizione Ovvio che no Ho detto che Un super mega unboxing Vuol dire che c'è Roba costosa Anche tanto Scoprirai Venerdì Non vedo Allora Andiamo a luce Dovevo mettere Il lago di Fimon Qua Dai Sì sì Tra i 30.000 30.000 specchi d'acqua Che potrebbero mettere Quello di Fimon Che non è cagato Né A Bass Cioè nel senso Cagato Per le competizioni Di alto livello Cioè hanno messo Il Tevere No di alto livello Dico Tipo Tipo Bolsena Tipo Lago di Como Beh meglio così Ah forse Bilanci Forse Ti mette a pescare Da sopra il ponte No Non ce la si fa Mi stai sfidando Non so me l'hai detto In verità Erano luci Da 7 chili Se ti mangiavi Se di secondo me Se ti mangiavo Raffa L'original Floating Da 9 cm Recuperato A strappi Sotto La superficie Dell'acqua In modo Che facessi Il top water Avrei tirato Su qualcosa Di bello No Bastava anche Bastava anche Un Com'è che si chiama Un Un mesca Buttata Spiombata A Texas No Cioè cos'è Sei così nabbo Da non saper lanciare Un'esca Spiombata Ma io pesco Solo Spiombata Bats Praticamente Oddio Heavy cover Non la fai Heavy cover Non fai Con tutti gli airby Che hai Ma no È più facile Trovare Il pig Dove non c'è Erba Veramente Dopo arrivo Io a rana E faccio Basta 3-4 chili Ti stai perdendo Le perle Di Matteo In chat Matteo chi? Secondo te? Ma guarda Conosco tanti Di Matteo Secondo te le perle Di chi possono essere Oh Doubled up Contemporanea Pesca in contemporanea Solo che il tuo è piccolo Minchia È solo perché il tuo crankbait Pesa due etti Eh? È solo perché il tuo crankbait Pesa due etti Perché? Eh Il tuo crankbait Pesa due etti E quindi? E quindi Quando lo prendi su Lo pesi così Eh sì Sto dando la Con il crankbait Ancora su Dico Beh sto Sì Adesso Ah adesso Ho capito Adesso Io ho uno spoon Che pesa 7 grammi Tu hai i due etti Di crankbait Sto cominciando Ad annoiare Allora Senti a noi C'è Matteo Che scrive in chat Lino italiano Ma no Interrogato In matematica Interrogato Oppure vi interrogano Sì ci interrogano Hai capito bene Ma intanto basta Che ti metti sullo schermo Qualcosa scritto Quello che ti serve E via Hai fatto Sì L'unico che mi ha insegnato Adesso ti devi tenere Di fianco allo schermo Ti devi tenerti aperta La schermata Della video lezione Di fianco Hai aperto Il blocco note Con tutti gli appunti Esatto Nel senso Nel computer Ma i professori fanno Ah sì Il problema è che si vede Quando leggi Perché muovi gli occhi Sì Piccolo cambio di programma Stefano Cosa? No Mi dice Non dovevi andare a trote A marmo Eh deve guadagnarci Adesso Un attimo che faccio Altri due soldi Fammi vedere 1.6 Dai ancora 400 Altri 3-4 pesci Vabbè Lì comunque È più facile Guadagnarli Anche Anche se hai La cosa piccola Io sono comprato Quella da 30 kg Con 7 kg Di pesce Maschi Di 7 kg Quanto costa? Pochetto Tipo 10.000 È buono Eh fidati che conviene Però eh Sì no Certo Perché se Ce l'avevo io ieri Tiravo su Quella marmorata Che mi dava Un sacco di soldi Ma te lo potevi tenerlo Alla marmorata No Ecco Pochetto C'è la puttana Mi è andata Eh ho visto scappare Però io a differenza di killer L'ho presa unica Eh Però io a differenza di killer L'ho presa unica Alla marmorata Anche io l'ho presa unica Stamattina Adesso lo sai che faccio Cosa? Mi metto a fondo A Fyder A Fyder Fyder Castro Cosa è che metto Cosa è che metto però? Bloodwars Dai Perché con il verde vas? Cosa? No Perché con il verde vas? Cazzo non so Eh il bloodwars È il verde vas Ma il picchetto non lo metti? No Tutta in luposia Ah come Quelli che non fanno pescare Ah no Hai giocato a roba La proba a sfishing Secondo me il videogioco È migliore sulla pesca Beh è molto più arcade Rispetto a questo L'ho finito tutto Ho fatto tutte le sfide Io di quello Però Sì È un po' poco simulativo Perché puoi usare Tutti i colori Vabbè anche questo Puoi usare Bero o male tutti i colori Però Sì Sì Pozza è qua Cosa? No Mi dice Matteo chiede Dov'è Pozza? Mi mancava Ah no Scusa Guerriero Ho letto male Ah ciao Filippo Guerri Oh Eh questo è un pesce Bello che io sto usando L'ondulante da notte Notturno Alza il rumore di Pozza Che si sente poco Ma l'ho già alzato Prima È proprio Il tumore Sì perché Abbiamo capito Che c'è un persico sole Me lo tengo Sempre in massa Con noi Sì Fa esatto Ecco Ecco Arugi Credo che sono passato Da giocare a DOOM A giocare a Fishing Dai Che stava mangiato Big fish Big fish Big fish Tra poco Faccio anche Nuovo livello Wow 1882 L'ultimo pesce Tu li presi i siluri Di solito Sempre e comunque Sempre Sempre liberi con noi Nel cestino Ma te ci sei dentro Un po' almeno Sì Mi faccio con le risate Sì Sì Quando c'è la giornata storta Quando c'è la giornata storta È il miglior Miglior modo Che cazzo Ho beccato Sì Ok È divertente Finché non ti trovi Finché non ti trovi No Non ho capito Con È divertente Finché Finché non trovi Le foto del siluro Con un coltello in testa No Fa ridere Perché sono artistiche Sono Artistiche Ognuno ci mette sempre del suo È da malati Secondo me Ok Andiamo Ah sì Ah sì Sì Allora andiamo Facciamo Facciamo la Per fare la guerra Bene Facciamo la guerra Dai Un attimo che sto recuperando La lenza Chiro ha sentito Termotto Ai Eccoci qua Allora Wait Aspetta un attimo Posso sistemare Due secondi di alimentare Allora No No Bella ma guarda Che hai messo Perché nella copertina L'hai pescata te Sì Allora Questi non ne ho bisogno No No Non mi piace Mi piace Il giornato di mezzo Mi trovo io Allora Ho bisogno di Titani Un leader White Moose Exploration Exploration Adesso me lo metto Anch'io Medium Spoon Allora via Allora via Allora via Ok Ok Ah ma devi usare Quello No Allora io Licenza By license License Tutte le compri sempre Licenza di pesca Vero Travel Lake Chub Semolina Borsa Lake Whitefish Che cazzo Whitefish Pesce bianco Sì Però Intendo White Sì Però Che cosa Mi rappresenta Che pesce bianco Cioè Breme Carassi Scardole Sì Ma intendo No Questo Che ha Proprio Questa Proprio Una specie Che si chiama White Lo so Che cos'è Il pesce Ti arrivo Allora Ti ricordo Che c'era Spawn A destra Ti ricordo Che c'era Un pesce Che si chiamava Ecco C'è Tipo Splake C'era Uno Che si chiamava John In Everglades Ah E ti consiglio Spawn Più in giù Scusa Ok Lo fiffing E ci sono I Trotti Ah i trotti Pensavo No I pikes Io voglio i trotti I cosi coi denti I trotti Si metti Oh Ho già ricevuto Mille Wow Wow Stonks Stonks Aspetta Devo uscire Un attimo Devo cambiare No Sono sulla tua Stanza Si sto Ruttando Io ancora Allora No ma Selected Room is full Viene dici Oddio Facciamo così No No Così Allora Per i luci Cosa mi avevi detto Il casting spoon Da 14 Casting spoon Da 14 Lo avevo comprato Lo avevo buttato dentro 9 grammi Vabbè butto sul No Aspetta Cos'ho Ho il 9 grammi E poi tieni 3 tacchette Di recupero Un attimo Che esco Da te Non sono preso Quello coi 5 diamanti Sai Come quello Coi 5 diamanti Quello giallo Con i Si chiama 5 diamanti Il tipo Di colore Degli spoon Molto popolare Nell'america Un attimo che Gioi Devo lanciare Allora Devi metterti Circa Dove sono io Adesso E devo lanciarla Dall'albero Di lanciare verso L'albero Cadù A sinistra Dell'albero In mezzo Beh pensavo Proprio dentro L'albero E cos'è che devo fare Allora devi fare Stop and go Con 3 tacchette Direi Ok E devi recuperarlo A mezz'acqua Che bella Che è l'acqua Azzurra Ah va via Ma da mezz'acqua Verso superficie E dal fondo A mezz'acqua Dal fondo Ok Vediamo di riempire Il fresatoio La gratticola Oh che porca patata Oh io menta Prostata Tatata Tatata O che qui danno Anche i reali Vabbè Penso di riuscire A riconoscere Un reale Da Qua i luci prati E avverto Che sono molto più grosse Eh appunto Dico Io ho dimenticato Di questo piccolo Particolare Eh vabbè Dove io ancora Nenche una pacca Stai nella Nella Quei importantissimo Stai Nel Lì Nel Cos'hai detto È importantissimo Stare Nella Che si chiama Strike zone Sì Nel periodo Di attività Ah sì No ma Sono nel periodo Di attività Cioè penso Cioè mi sembra Di aver visto Sì Cioè non sono Su quello massimo Sono all'inizio Diciamo Dove c'è L'arancione Nel periodo Sì Sto fatto Di noci In ungherese Cosa? No Matteo Che viene fuori Con Cazza No scusami Ottimo C'è Nhi C'è Forse è meglio Spostarsi alle 6 Eh no Sono alle 6 Ah vabbè For all time Sì anche io Ero alle 5 Però Provo a spostarmi alle 6 Dato che non vedo Nel link Che l'ho mangiato Cioè sarebbe stato Meglio 5 e mezzo Però vabbè Adesso Vedete Mangio un po' poco Io metto alle 6 O alle 7 No no Mettete Beh io ce l'ho alle 6 Il piccolo Adesso deve fare Anche la canna Da fondo Guarda che Che palle Quasi ci vado a mettere Di filo Mi ho anche il cagliato Sì Che bad Sicuramente devo tagliare la lenza Mi stai dicendo Questa line Se Faccuno Vabbè si pesca un'altra volta Fider Si pesca un'altra volta Fider No mi cagliate Mi ricordo che dovrei essere Proprio la massima attività Cioè anche io Anche io dovrei essere sulla massima attività Però non ho ancora visto la mangiata Adesso cominceranno a smangiare Vedi 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 Ti ho fatto venire fin con la fine Per cappottare Ti ammazzo Beh dai Mi devi mandare 20.000 Soldi Beh non 20.000 Eh si Avrei potuto guadagnare 10.000 a Rocky Lake Perché lancio così poco Aspetta Sia male che vada al piano B Solo le trote Che io non posso tirar su Beh ma anche i salmerini Cioè quelli puoi tenere Mh mh Dovevo adesso Accidività Ok perfetto Quest'accio Scommetto che arriva Ma se lo cambierò Riesca Il colore Che ti dite Io quasi quasi Butto Narrow Spoons Beh buona idea Ho preso Un perchè Real Un perchè Beh mi l'ho scapotato Però è lunga a recuperare Lo spoon Lo spoon normale C'è lo spoon Medium spoon Ma quante tastiere hai? Due Otto Mi ho cinque tastiere diverse Ma forse bisogna recuperarlo Prova recuperarlo con due Eccolo Ecco Guarda di qua Guarda di qua Ma guarda che dipende tanto dal mulinello E' schifo Prova con due tacchette Sto però sto andando di due Poi tra l'altro Boh magari di cambio Ok Ah è il fondo Ma si muove no? Ma perchè si muove C'era il fondo C'era il fondo Un po' l'uccio Questo è l'uccio Italico In Alaska No Canada Si No mi sa che qua siamo in Canada 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 Bello sai un pescante Comunque sai che mi manca I maschi Si Sai cosa mi manca di sto lago? Il salmone Lo prenderò io dopo Questo è da trofeo Sai Dici? Mi ha portato via 40 metri di lento Oh shit Eh ma tanto adesso vedi che si smolla E io comincio a pomparlo Cazzo non funziona Anzi si ecco adesso funziona Fai avanti e indietro Hai ragione Io ho provato a farlo ieri e non funzionava Perdevo solo filo Anche adesso non sta funzionando Oh shit Stefano inizia a correre sull'acqua Inizia a usare i tuoi superpoteri Si è venuto a cambiare sull'acqua Guarda Mamma mia No no camminare Corri corri Oh cazzo Oh cazzo Stavo spesso la mare Ecco bravo Adesso ha capito Matteo proprio non c'è niente da fare Adesso ha capito Chi comanda Guarda qua Guarda qua Come si sta Addocilendo Addocilendo Prova a mettere il Medium Spoon Ok Ti ho fatto comprare Cavetto l'hai messo Si si La tua renza quanto tiene Giusto per sapere 5 kg 0,30 di floro Perfetto 5 e mezzo 5 e mezzo Ecco Sto usando la stessa mia No No Lì non lo ricongono Perché dopo non ho capito niente Mamma mia Da quanto cazzo Sto combattendo Contro sto Merda Guarda adesso Gli vado dietro Io Ma poi vedi Con le trotte Di lago Che ragazzo Da viene Poi Ci metti Intanto vorrei Prendere un lucio Eh metti Eh l'ho già Messo Recupero Due tacchette Eh l'ho messo Sì Fino a metà Schermo E dopo Lascio andare giù Si fa Più vicino al fondo Un po' più vicino al fondo Magari Questo l'ho preso Attaccato al fondo Quasi Uff Mamma mia Mamma mia Quanto tira Questa affare Sì Dai che ce la si fa Mamma mia Hai preso un lucio Così combattivo Vedi che era due etti Guarda che combattimento Guarda che muore Stefano Guarda che se ci metti Troppo muore E tanto l'ho preso Ah già Lo sai che il lucio È una specie Invasiva in Canada Sì lo so Oh No l'avevo mangiato Figlio di Grrr Guarda se non l'hai da trofeo Mi incazzo Anzi è da trofeo Questo punto Cioè Oh ciao Posso giocare Noi siamo da pc Non è un lucio È un reale No non è un lucio È un salmone Non è una trota Per me è un alborello Un salmone Ecco così hai completato la sfida No non c'è Non avevo sfida Mi sembra No quella di prendere tutti Dicevi che mancava Mi manca lo steelhead Non è il salmone Ok E siamo white Guarda questo pesce Guarda questo stramaledetto pesce Te lo vedi in gola È leggermente bagato Perché c'è la canna in mano Ok va bene Nonostante lo stai tenendo con la gola Va bene Va bene così Com'è che si chiama il lago White Musa 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 dovrebbe essere tipo alce Non mi ricordo So che Goose È Ok Si quello si Ma è tipo Ciglio Mi sa Sto ricomperando proprio Radente Anch'io Vuoi mettere a pescare le trotte di lago Uh No È il fondo Come il fondo Cosa mi stai dicendo Si Possiamo chiamare un pesce Dopo guarda il fondo Possiamo provo di mettere il casting spoon Vediamo se cominciano i luci Dai Vado a dire che mi mancava proprio Da fare Provo con Quello Rosso Ma come ci vuole solo un po' per ingranare la marcia Adesso vedi che arriva Pozzo ha creato un canale Discord Che è Cos'è Fishing Planet Italia Che bello orecchino Come sta bene bene Un po' meglio anche a lei Carissimo Ma sai se le luci non sono in attività adesso sai Ma dici Dici Andiamo tra te Si Cioè via Su tira su Muovite 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 Curi Curi Ciano Curi Curi Tira su tutto Metti il medium spoon Anche qua Ho già messo Va bene il cavetto Si si Usalo Non so se tagliano Però c'è il rischio Non so se tagliano Però mangiano lo stesso Io non lo voglio Va bene Va bene La villa Bene Bene Stava bene Ieri Stava bene Oggi Stava bene Domani Ok Mi metto qua Dove bisogna lanciare Allora Lato sinistro Io ti consiglio Prova Oppure Se non ti dai Scello alle rocce Prova All'esterno Verso Dove c'è il ghiaccio Tipo Ok Un attimo Stai in bagno Stai in bagno No Sni Mandagli un messaggio a Pozza Vediamo se ti invita lui Mandagli su Instagram Dopo appena arriva Ti invita lui Che recupero devo fare Caro Pozza Allora Ti ha già svuotato la bobina No Che recupero devo fare Sempre due tacchette Radente Ok 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 Ho fatto uno straight slow io Comunque non trovo Il canale discord Avvo E quindi Gli ho detto di mandarti un messaggio Serve il link Eh Gli ho detto di mandarti un messaggio su Instagram Sì adesso do un'occhiata Ti do il link al massimo Cosa fa oggi Proviamo a prendere un pesce Oh figa Ho fuori 40 metri solo per arrivare sul fondo 41 Perché la gente che mi tagga su Instagram a caso? Anche a me mi taggano Tipo te Vai sinceramente Sai cosa faccio adesso? Metto alle 5 Mi sono rotto il cazzo C'è alle 5 di pomeriggio Mi sono proprio rotto i coglioni Di stare qua Mattino Non mangia Un cazzo Sai? C'è uno in specifico In che senso? In che senso è il meglio? Cosa? No no Mi ha mandato un commento Chi è? Tanto profondo qua eh Eh sì Ma punto di riferimento? Più o meno Ah boh Luci Trotte Robbe Punto di riferimento La cima della montagna Sì Aspetta Che è che te l'ha detto? Cosa? Che è il punto di riferimento La cima della montagna No È indovinato Eccola qua Di solito basta cercare Il punto più alto Guarda qua Eh dai E piegala la canna Fai vedere come si pompa Mi ha preso un po' di lenza Adesso Non che sia uno da 5 kg Tipo Dai dai Vediamo lo Stefanino Con il cappellino X-Series Ho già Sì però mi sa che Ha già tagliato Ingoiato Ingoiato Questa affare Oh la sta venendo su pian piano È bellina Sì 3 kg di fa Forse di più Guarda qua che viene su 4 kg in realtà No 5 kg e 60 Oh shit Sono già Sono già 10 kg di pezzi Io Sai non uso proprio La montagna Come un po' di riferimento Se guardi c'è un Proprio in fondo Che Leggermente più a destra Della montagna Diciamo Lancio È stato un combattimento Veloce Però eh Sì Ho durato poco Ah ok Però se te ne almeno Non so se No Gabriel Mi toccherà farmare Per tre settimane Al Non star lake Eh noi sì L'importante è divertirsi Io però solo Un persico Per colpa di pozze Che mi dà le indicazioni Sbagliate E anche oggi Si va in perdita No no Perché è finita No Io sto andando a rock Dovevo venire anch'io A rocky Ma no Sto andando in perdita Se finisco così oggi Devo starmi là Tre giorni A rocky lake A farmare i soldi Scusa Non star lake Per andare a rocky lake Per farmare due soldi Perché sto continuando A prendere Piccole Perché fai schifo E distrutto Però più che altro Questa non è proprio Una giornata ottima Devo dire Per sto lago Perché la roba migliore Sarebbe andare Nelle giornate Anche a rocky lake Sare da 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 Ma se mi metto di notte A rocky lake Oh si E catturi Sare da Provo Sì Sì Sto cercando il discord Ti ho detto E' finita C'erano il link Del discord Io non riesco a prendere Un pesce Dio quante ho lette Disinstallo Il gioco Oh preso Ecco E' E' Oh cazzo Qualcuno mi dono Adesso Donateli da Solo Guarda posso usare Più frizioni Double 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 Ma io Questa Non me la posso Tenere Urca Troia No Perché Continua a Slavare No ma Fino a 3 Kili e Mezzo Questo Grosso Puzza E' 23 Metri 22 Perché Ha saltato 20 19 20 21 22 23 27 28 29 Devo Bagare Devo Bagare Devo Bagare Come ieri Devo Bagare Che Senso A 32 Metri Ecco Ancoggi Si guadagna Qualcosa Domani Che lo diceva È morto E' morto Di No E' morto In modo Molto triste Chi è che l'ha detto Hitler Esatto È stato È stato Stefano Stefano Ti butti In acqua Tirarmi sul pesce Dopo lo tagli In due Così lo butto Dentro in assa Date con il massimo 3 kg Guarda che pescione Che hai preso Oh Eh appunto Ti immagini È la vita vera Prendere un pesce Così Ma io Già li prendo Pesci così Sì Però una trotta Così Intendo Vabbè Dammi Dammi due settimane Dammi il brenta No Scherzo Il brenta Non c'è più niente Il brenta Magari No Dammi Una ruspa Chiudo il corso E tiro su tutto Quindi ho preso Un salto Ma Tra l'altro Non ho ancora preso Un cio Vai Vieni su Vieni su Il mio combattimento Vedo le nuvole Ragazzi Che belle le nuvole No Non voglio Succo d'arancia Ti voglio Un sacco Pum Pum Uno Due Due Tre Pam La canna Faccio Metodo Stefano Metodo Stefano Sì Mi stai simpatico Dai vieni su Ciano Dove sei lo finito Qua il Ciano Non vieni su Stefano Dammi la mano Ciappio con il rampin Graffio Vai Miti Inizio tirano in Rio Ti Ciappio Guarda che Bad Pesce Guarda che Bad Pesce 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 Entrato Entrato Nel server Spero No perché Spero di avergli Badato Dai 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 20 kg 3 kg 3 kg Che culo Che culo 3 kg 3 kg 3 kg 4 kg Va bene Ma a me va bene così Perché almeno ho fatto due soldi E questi sono solo i primi due soldi Ma intanto va bene così Perché ho fatto due soldi Ho fatto 300 E ho rotti soldi A mia Gabriele Cio stanko oggi ho fatto tanta roba Vedo un sacco di roba dopo Poco Domani ci ho interrogato in Interrogazione Ciai 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 Fortunato Max Compiti Interrogazione Ciai 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 Dai la metti la parola con la s in una live adesso ti banno bannalo ma bannalo da live dico metti c'è il tasto per caricare la pastura ce l'ho ce l'ho tu guardi family therapy no non ho questi problemi guarda che bello mi stai facendo scoppiare le cuffie si stefano buttati in acqua fai la tecnica yachibons di giojo di giojo dio ma perchè c'è uno youtuber veneto che può bestemmiare in live di twitch in live di video ma sai che lo bannano ogni settimana tipo cioè nel senso lo sospendono vabbè diventa anche così un monstro attaccato al lamo stefano 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 da un metro e venti e invece si dai vien su ciano vien su io non sto pescando niente perchè sei scarso perchè sei scarso vediamo qua lo aggiungiamo oh preso preso balena si adesso l'ho trattato da un chilo e due vabbè ma sono rocky lake con il mulinello del 1200 vabbè ma perché si usa i mulinelli che fanno cagare 1 2 3 no mi sbobbina tutto il mulinello spacco tutte le bestie no io sono a 40 metri no 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 stefano buttati in acqua no 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 non ci vai tu a 48 metri ma quanti posti quanto ti sto togliendo sono a 41 metri 40 eh vabbè mi faccio di peggio su con la vita va bene allora mi prendi te la trota te la do a te così almeno su con la vita dai non abbatteri ecco adesso è tornata in qua ha fatto 20 metri in un secondo davvero una cosa bella qua è che anche se non ti puoi tenere sali di livello in un attimo si va bene però se vuoi te la lascio a te no dai mi sta risbobinando il mulinello ma che palle dov'è che stai pescando un campaghello a rocky lake con un mulinello cinese della linea F i mulinelli della linea F sono i worst qua che l'ho usato il mulinello della linea F al lago di e? dai ha ceduto quando ho preso la pressione ha ceduto guarda che enorme guarda che è un metro questo guarda che è un metro guardala guardala è un metro pompato che sta poi ci kill dai 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 vieni su vieni su vieni su dai dai 22 metri eh successo ah vabbè pozza tu non hai più incarnato niente dai 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 ok 4 kg e 82 impossible impossible to place this fish in the current fish keep net or stinger parco schifo e ho livellato ciao ciao addio ciao addio trota ti ho spostato io qua dentro ho guadagnato 1500 però cambiando di livello eh fai un po' di eco sai hai dei cucchi no si 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 così immediato però qua dev'essere piccoli lo sai si 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 amato guarda qua c'è tipo un canale americano che vanno con la barca a pescare a casting con le cam... come è che si chiama Steph? non lo so che pesca un tipo dei pesci strani, giganti, marroni, simile a dei ghioz ah ho capito lo snaked no lo snaked vabbè se lo snaked ma in mare si in mare ah si ho presente quelli si che pompano quelli che pescavano le cerni dici non so che in nord nel mare del nord li prendono anche verso l'inghilterra ah ho capito quali sono credo sono ghiozzi si che ti tranciano una mano se vogliono si infatti posso provare a fare un acquario di ghiozzi uh ce l'ho le fai non parli avvo no ci sono big fish big fish enorme 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 guarda come piega la canna wow non ti segna che è girato guarda che ti sto guardando siete nel lago con l'innevato si stai a fanon trotta da trofeo è 48 metri 49 50 51 52 53 80 metri di filo 60 eh è la prevenzione chiusa al massimo quasi mi sta rompendo la canna mi sta rompendo la canna mi ha rotto il leader cioè no no tu devi guardare avevo un mostro su alla fine hai iniziato a tirare avevo tutto il rosso tutto rosso avevo cos'è che c'è la canna di farle da 20 kg mi sa proprio di si sai devi avere la canna grossa vuoi tornare a luci se mangiano si andiamo a provare dai secondo me maxi spacca la canna non pesca più deve tornare allo starling no c'ho c'ho l'altro c'ho l'altra canna ti sei setta a pulchere ad altri esatto ahhhh ahhhh appena attaccolato ahhhh eccola eccola sta ma sai che forse per i luci è meglio la 2 la 714 quella da spinning che ho usato ieri se tu credi così allora vediamo sto facendo un sacrificio eccolo eccolo sembra con quello rosso non so non so se è un reale non so se è un reale tutta la sera devo venire anche io eh addirittura max ma sei ogni giorno online in line cioè dipende quando voglia ah ok ma tanto siamo in quarantena potrebbe fare 24 ore cazzo mi ha mangiato però sembra un reale ahhh torniamo eccolo nooo mi ha dato ma anche a me uh uh cacciata cacciata ho visto un riflesso qua sotto riva riflesso qua sotto riva Allora Guardo la live mangiando pesce sciroppate Ti piace una tale ma le pesce sciroppate Pesce sciroppate Perché per Matteo è difficile mettere una Porcaccia Mi fa stralire la puzza quando dice porcaccia Porcaccia No direi un'altra parola assieme a porca Porca trotta Perché sono in live con Maxus Non gli facciamo prendere il bollino giallo Il bollino rosso nel ban del canale Ti facciamo bannare il canale Stacca 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 che ci rintracciano Io vi banno dalla vita Io ti banno dal server Bannarti dalla vita è peggio dal server Dai ti prego un lucetto Eccolo Eccolo Lucio Eccolo Lucio Sì 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 Quanta grinta ci mette Stefano su questo gioco Su lui Sì Si gasa Lui si gasa Sì gasa Due mesi fa Fai un pesico Fai un pesico sul regosso Stefano Uh ce l'ho ce l'ho Big one Big one Big one Big one Enorme 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 Stefano Due mesi fa ti annoiavi su sto gioco Stefano devo iniziare a correre Devo iniziare a correre No perché ho anche di livello basso Invece adesso che ho scoperto posti tipo questo Di Paul White Mi sto divertendo un sacco Perché Stefano Big fish Devo correre Corri con me Ecco mi sto andando dietro Eccolo qua Lucio Con me Guarda 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 Ma lui prende filo lo stesso Io sto correndo Sì È dal pontile il mio Lucio Vai al pontile allora dai Spiegati Sto correndo ma lui prende l'enza Cioè devo star fermo per tirargliela via È a 42 metri Dai che perdo un altro spoon No no vai avanti dai Oh guarda ha preso una trotta di lago unica da 18 kg Ma stai usando ancora il medium spoon Sì E allora potresti aver preso un salmone più con lui Cazzo Usiamo i bug Detto qua c'ho un Lucio di 70 cm attaccato Questa ha preso a Lake Trout da 18 kg Eh te l'ho appena detto due minuti fa Non me ne ho raccomando Tu che vedi magari in qualcosa Chi è che servono per venire a White Moose 12.000 In totale Cioè al posto di andare sul Tevere Potevamo andare a White Moose direttamente Stefano tu lo vedi? Tu vedi il pesce? Eh quasi Stefano per questo è un tipo Sto andando a vedere Sto andando a vedere È abbastanza schivo Lo vedo Fin adesso saltava Non ha saltato Visto Però non ho ancora capito Se è un salmone Maledetto gioco È un salmone È a 40 metri di nuovo C'è un linello che scoppi Insieme alla canna Cioè pensa che Prima del pesciolone di prima Avevo la canna Al 80-90% Adesso è 62 L'avevo riparata da poco Ma quant'è che lancia? È fino a 721 Sì ma tipo unico Cioè è un aurora Esatto Eh no non puoi andare in quel lago Con quella canna lì Non puoi Beh non dirmi che non ti stai divertendo però Bestemmiando sì perché ha 54 metri Sì sì Killers Killers cos'hai detto Deve andare con la 20-50 Cos'è l'ho Da casting La 14-42 Ah E dimmelo prima Ma te l'ho detto prima Non me l'hai detto Vai indietro nella live Ti ho detto Sì non mi hai detto che Serviva una canna così pesante Eh Beh ti ho detto Effettivamente ti ho detto che potrei Beh secondo me Già l'ha amato Già l'ha amato un altro lucio io intanto sai Ok È solo questione di crederci Adesso ne faccio uno al lancio Sono già 21 kg di pesce comunque Ma secondo me Hai lagato Eh? Hai lagato potente Un altro account più potente di questo Sì ma tu avevi tanto tempo da perdere Mi stai dicendo Sì Dimmi che musica cercare Aspetta un attimo Eh Metto un po' di musica Stavo Cerca Running in the 90's Running in the 90's Il pesce come adesso Stai che c'è il bot della musica qua Sì lo so ma è tutta copyrightata quella che menti te Stefano Uso la canna come dovrebbe essere usata Guardami Non si lo sblami No no Intanto qua ho un'altra luce Lo vedi Lo vedi Lo vedi Come l'hai già tirato fuori? Sì Cancaro Vediamo quanti pesci Sono sto già 2700 soldi Running in the 90's Appostrofato Bello però sto unirello C'è il freno magnetico però eh Freni in culo Dai tira testate da luccio secondo me Eccolo qua un'altra Freni in culo Freni in culo Ordinato Ordinato In che senso? In inglese Come si dice ordinato No cerca quello Il titolo giusto E metti in italdi Come si dice ordinato in inglese Poi si può dire anche clean Si vabbè Si vabbè Ti riguarda il live di street fishing in italia Non so neanche quando sono La settimana prossima Dico quando Dico quando Cazzo ne so Stiamo ancora decine Eh appunto Eh però te lo dico io Probabilmente saranno la sera Ok Aspetta 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 No No Sta riprendendo il filo Questo è un luceo da trofeo Secondo me Guarda qua Secondo me è un salmone Guarda la mia Noi mettiti il casting spoon adesso 14 grammi Eccolo Quale usi dei due te? Cosa? Quale casting spoon usi? Cioè Di che colore? Ah oro Il uso giallo con i diamanti Ossi tipo Get you baby Running in the 90's Is a new way I like to be I'm just running in the 90's Deja vu I just haven't been in this place before I've just been in this place before Higher on the street I'm ono It's my time to glow Calling you who And the search is a mystery Standing on my feet Che pesce ho preso? Ma trotto Non è un luccio Oh mio dio Ah non è un luccio Ah non è un luccio Ho preso un percico reale Luccio di 89 cm Io prendo un altro percico da 89 Guarda qua 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 Va che bellino Guarda sembra il mio Ho già riempito la gratticola Dai Altro giorno Altra corsa Oh si Vabbè devo schipparmi il tempo Ma va bene Vento alle ore Vento alle ore 11 Lo estendo Oh vedi sto un nero con le scarpe di gomma Vento alle ore Vento alle ore Sono i miei vicini che hanno il giardino e giocano a palle invece sono qua chiusi a casa Potrei sia non c'è la canna là in torrente sotto a casa tua Alla vato No Ho perso il percico Luccio 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 Cioè mi hai fatto spendere 12.000 soldi Sì Puoi prendere i persici Puoi prendere i persici E sono a ben 433 Sì Puoi stare a uccidere Beh se vuoi di Devi ascoltare i miei consigli però se vuoi prendere No aveva mangiato in caduta Ho un persico Allora andato sei nel posto giusto Vi lanciare verso Eh sto facendo Eh però te lo dico ancora meglio Devi recuperare Tenendo la canna verso destra Radente in fondo Facendo stop and go E' quello che sto facendo Tenendo la canna bassa Tieni la canna bassa E' quello che sto facendo 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 E' leggermente verso destra E' quello che sto facendo Eh però ascolta il pro E' quello che sto facendo Oh ho avuto una mangiata E' il range in cui è più probabile che ti dia un luce Quello dai 40 ai 30 metri di distanza da te Ah Quindi tu vedi di pescarti bene soprattutto i primi 10 metri Lascia affondare bene Poi quando arriva un tot dal fondo Cominci a recuperare Non lo so se non prendi è colpa tua E se non prendi è colpa tua E se non prendi è colpa tua Ma invece capo che continua a uscire Grazie E se non prendi è colpa tua E se non prendi è colpa tua E se non prendi è colpa tua Nooo Nooo No No Gabriel no Gabriel no Gabriel ti bagnò Ho fatto un nuovo account molto bello che Max Si citerà Ti stai già allenato per te max ti stai allenando per tre viso si bravo vedi sto prendendo il fondo mi raccomando non devi sbagliare neanche mezza no al massimo un butto in acqua gab perché hai fatto un tornado sul microfono ancora ma c'è il microfono nel naso appunto see your body into the moonlight even if I try to cancel all the pictures into the mind mind as a flashing in my eyes take me into the moon no take on me take on me take me on stai cringendo fra no è un bravissimo canterino no è canterino oh fish on fish on fish on fish on pike 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 big pike ah si visto visto che devi ascoltarmi visto che devi ascoltarmi catturi eh visto che se consigli che se consigli i miei ascolti catturi there's a little problem sta prendendo filo eh vabbè te lascialo ti prenda filo poi tu ti riprenderei ciò va bene la parte che un lucio nella vita vera non ti tira mai infatti io con una canina del genere l'avrei già tirato su al volo ti dico per esperienza eh lo so ma anch'io per esperienza no perché la mia prima canna che ho usato al lucio è stata una roba del genere cioè una canna che tirava 30 guante ma si ma anch'io è una una 525 è la mia prima canna che ho usato al lucio ehm don't you see my commission the nation has gone running again can't see now vuoi venire ad aiutarmi in video lezione sono interrogati matematica ah stai parlando con me no no ah ok geometria ah è geometria cosa devi fare di disegnare i triangoli aspettato curi ci hanno curi no baggiamo 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 ah no stavo chiedendo mio fratello se mi aiuta nell'inter grazie io sto baggando guarda guarda ecco così si tira fuori un lucio vedi di schiena così non ti mangio le mani dai vien fuori ci hanno vien fuori ci hanno che mi fa lo superbasso sono un pezzo furioso ci fai un pezzo ti fai un pezzo vieni fuori metti nines of fire sempre in lindale di in motherland dai ti fai un pezzo vieni fuori ci hanno vieni fuori ci hanno vieni fuori Vengo qua, la prossima volta vengo qua con la canna da 240 grammi, mi tiro sui pesce a loro Non è anche il tempo di tirare la piazza Minga, addio Fate che anche io il lucio grosso che ho preso Ho già fatto mille schelli Sì, sono stati tipo 13 secondi di combattimento sai Così tanto? Sì, nel giro di un minuto era già di nuovo che sguardo Sì, dalla boccata al rilascio, è trascosto un minuto neanche Mi so il tempo di slamare, fargli le foto E fare il video fighissimo del rilascio Il siluro più grosso che ho preso è stato fuori dall'acqua Ma sì, tanto quelli li puoi tenere fuori dall'acqua anche un'ora, tanto non muore Take me to the moon Take a... Sì, per lasciare anche un giorno fuori dall'acqua Ma anche il pesce gatto Ma dipende dalla quantità di umidità Se tipo c'è umidità la notte, lui sta bene Sì, l'ho preso sai dove dove scarico un fassio Era un siluro speciale Comunque non tenerlo troppo vicino al fondo è come un'altra Mi sto dicendo le key Le key Sì, sì Ma chi? La key phrase è per prenderla Ah, ok Oh, fish on Perch, perchettino Take me on Take on me Che noioso il primo Trophy yellow perch Trophy yellow perch Non lo so, è l'unico fonte di guadagno facile E dai che persico dopo persico Io voglio provare a fare un'erzadda Ah, azzardata Cioè? Adesso vediamo un attimo Io voglio Allora qua Quattro chili e mezzo Mmm 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 C'è che quella da spinning più leggera è forse più forte Forse più forte Go decide di te Ehm, quattro chili e mezzo Eccone un altro Eccone un altro Te recuperavi in modo sbagliato Con quella di te La canna C'è poche bratte che Ti scrive qualcosa Ti scrive qualcosa Fischon Pai Big bike Allora per comprare Oh dio Vedi? Mr. Z-Man Give me a ten Tan 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 Oh io Ne ho preso uno uguale E ci ho messo 10 secondi Sia no Tiralo fuori Eh La pescaluccia La pescaluccia No ma nel senso Ci ho messo molto meno Con questa canna Cosa tai dicevo Dicevo Queste vacanze di carnevale Durano troppo Ma questo ponte tra carnevale e Pasqua È un po' lungo Sapete Sì speriamo che Durano Che mangiata Che mangiata Speriamo che il prossimo decreto sia Vada ad accorciare Però se la gente continua ad uscire Ma è bello che c'è gente tutta attaccata al supermercato Aspetta Oh Big fish Big fish Io non posso andare in pace a pescare Minchia ho preso un siluro Frasciata da siluro I siluri non ci sono in Canada Ah sì in Canada ci sono i siluri Sì Cioè stanno arrivando No ci sono i siluri L'hanno importati Vedi lo sto quasi tirando su Guarda Con questa riesco a farmare Vedi Il siluro è stato importato dal Canada Ma se è pesce gatto europeo Sì Il stasito è stato importato dal Canada Cos'è lo sp... Ah sì Tipo salmerino Se non è salmerino Non lo so come cazzo si dice Salmerino in inglese Trotta salmerinata Esatto Salmerina è brook trout Ah ok Non è quindi spleic No spleic è un altro pesce Sembra la famiglia Dei trotidi Non sai che le trovi anche in Italia Le trote Cannadesti Ovvero Queste qua di questo lago Le trote di lago Aspetta Cazzo ho mangiato Nel alcuni laghi ci sono anche in Italia Sai Tipo in Trentino No pensavo tipo Tipo l'affario mediterraneo Vabbè Nel alcuni laghi del Trentino Troviste il trotone O l'acustre non so Trotta canadese la chiamano Però sì Non è la nostra l'acustre però C'è che prendono l'acustre No io una volta ho preso due trote al mare In foce Un fiume Proprio in foce Praticamente in mare Tra i cefali Stavo pescando a cefali Col galleggiante Cos'era il tagliamento No vabbè ma ogni tanto succede Che le trote Vanno Sì sulle forci Soprattutto erano trote grossi No piccole Piccole 20 centimetri Strano allora Io ho detto Boh magari vengono dal mare Eh c'è Esiste la trota di mare Lo so Appunto per quello Bisogna prendere la trota di mare E' arrivato dal canad La citro out La citro out Andiamo tutti a pesca Subito my friend Padelliamo 80 luci a testa Al secondo Padelliamo pure I luci di 6 centimetri No l'appadano Fretto L'appadano pure le uova Frittura di Frittura di Frittura di avannotti Ma lo sapete Che a Fimona In magico Si riempie completamente Di micro Che belli Me li porto a casa Tipo che Io andando a sole Me li trovavo Tipo che mi da E' proprio 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 Sembravano un filo d'erba Sai Oh Fiscio E' Perci 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 No ok E' un luce Ok è un luce E' iniziato a tirare il piano Dopo E' partito Io sono galleggiante Adesso Quanto puoi far schifo Una volta ero a Ero Stavo pescando il sole No Da sotto una barca Spunta fuori Sto luccio Di 10 centimetri E mi prende Il vermetto Mi hai dato due volte Ma quanto sono Vediamo un po' Sono a 15 kg E 2002 Eh dai Io sono a Sono a Un No neanche 43 kg Ho preso 43 kg Di pesce Da quando sono arrivato Sono a un sesto Sono a un sesto Bene Ma vedi che si fa l'arma qua Ecco l'altro Certo Tantissimo Un sacco Troppo Un sacco Troppo No Minchè Prendi Prendi Da mano Non prendere i luci qua No Bisogna di una canna più potente Per prendere i salmolidi Prendo la canna da mosca A doppia mano E una fresa più grande Esattamente Pozza Dove andiamo noi Non c'è bisogno di guadini gommati Ma quindi il mod Di questo canale qui Di questo server qui Stefano Come si chiama Mod Come e quale canale Tu mi colano Di questo server qui Ehm Fishing Ehm Che cazzo Nessuno Fishing planet Italia Ecco Chi è che te lo chiede Fishing che cazzo ne so io Fishing che cazzo ne so io Sai che bel nome Cronavirus 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 Crona Una sepoltura Ogni mezz'ora Minchia zio Cazzo Cosa triste Oh minchia Ma se salgono i contagi Arriviamo tipo milioni di contagi E migliaia di morti In continuazione Che fine facciamo? Beh se stai in casa o no niente Capito però Dovrei pure andare a comprarti qualcosa Eh no Ti procaccita il cibo Ti mangi la ma No non lo dico Ti mangi i lucitalici Ti mangi le peci Ti mangi l'erba O il giardino Ti mangi le carame Ti mangi i quadrifogli Delle piastrelle Mangi la droga No no Minchia sono così Preso male come te Non ci mangi i gatti Che mangiano gelato No lo perso Sì ecco Mangiamo i gatti Ci sono i nuovi vicini Che hanno un gatto nero Bellissimo Secondo me l'hanno preso apposta Per il coronavirus Come ultimo posto Grazie neri Razzista contro i neri Gatti Gatti si sono razzisti Ma i gatti non esistono Gabby perché gli hai ricordato sto meme? Quanto sto Chi è che me l'ha ricordato? Killer Bello Che cazzo ho preso? No Un reale Ok Troppi allo parci Parci Troppi luci Ci sto prendendo io Mannaggia Mannaggia Che schifo Prendere troppi pesci Già Perché così il singolo Perché se prendi Quando prendi il singolo pesce Perde gli Ma in cazzo Sai che lo dico Quando vado a carpe Mi rompo il cazzo Trofi yellow perch Sì L'ho appena preso Mi riempio Io mi riempio E basta Io se avessi potuto Tenere tutti i pesci Sarà molto di più Se io avessi potuto Tenere tutti i pesci Sarà molto di più Eh vabbè La vita Quindi quanto sei scarso E divertire E' scarsi Ma c'è il fatto Pescare galleggiante Perché sul mone No Mette il galleggiante Sul serio Con il vivo No Parte sul mone Non mettendone La piccia vera Vedo gli inglesi Che fanno Di quei reali Galleggianti Ah Non ho ancora Sto storia È il video Che l'ho dato Doveva essere Il mio prossimo Dipende Casting o spinning Tutti Tutti e tu Fuego Eh sì Poi che cazzo Curato Di sì Esatto Eh sì sì Voi che cazzo Sono Il Come si chiama Saltiga No quello è brutto Figo Meglio lo stella Cazzo Esatto Più bello Più stella Stellato Matteo stai iniziando A spammare A spammare Matteo è un boss Sì no ma Ha fatto 20 messaggi Che ho scritto solo Figa Tanto Stefanino Ha inganciato Catturo Io tra l'altro Devo anche Mettermi Più avanti Perché probabilmente Sono fuori Dall'attività C'è un mouse Che parte La sensibilità Al massimo C'è un attacco Che piletti Qui in gioco Mi conto la live Solo per vedere Che cosa sto facendo Distantano Brutti rompere Il mouse Che stuccia Contra Esatto Io tra le sfide Minchia 12.000 Mi dà questa sfida Devo prendere Una Trophy Brown Trout Una Trophy Steelhead E un Oregon Red Band Trout Trofe Eh Allora La Brown Trout La trovi A far Guarda Guarda qua Che spastico 17 Fai 17 Sì Basta Che sorta di ballo è questo Non riesco neanche a cliccare su keep Sul gruppo di pozo c'è abbastanza cringe Sì È vero Ma dove è andato il tuo micro Metta sensibilità anche in game al massimo Dai Ma a me basta alzare i dpi Posso farlo direttamente dal mouse Ma anche io però Mi addio quella Io ho 16.000 dpi 16.000 Uh Quanto? 16.000 Tocco il browser 16 Al massimo Sì Mamba Elite Io ho un HP Tu sei in algo Io ho un HP Epilettico Lo abbiamo lanciato di fianco Abbiamo fatto lancio sincronizzato Ma forse è affetto da epilessia Probabilmente Sì Pai Big pike Big 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 pike Guardano la che parte con il suo attacco epilettico Figa Se va Puzze che scrive Assai Assai Ma sei ancora la che Bestemmi con Il muninano piccolo Ma devi vedere il nuovo nome dell'account A te che ti mando l'amicizia Oh io altri 10 minuti Poi devo andare No ma io devo farmare No ma io devo farmare Non ci fermerai Vabbè stasera dai Stasera farmiamo ancora Dai dalle 20.30 Alle Non fa stasera niente Vieni te eh Killer No ma devi venire qua Vai a vedere come mi chiamo Uh 401 Vediamo come ti chiami Posso farlo vedere in live Oh ce l'ho Devo chiamare scrivere Guarda come un lucio Guarda come un lucio lavato da pochi secondi Guarda qua Matteo dice che gli vengono anche a lui adesso Oh ce l'ho Oh ce l'ho Big 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 fifth Ma dallo shop di sto lago posso prendermi una canna? Un mulinello Una canna in mulinello Dici Sì Per pescare qua Ma c'è la stessa canna mia nello store qua del lago Interesting E posso tirare sulle megatrote? Fa un po' Sempre fatica Facce la super Guarda il lucio qua Un attimo Fermo 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 che adesso lo tiro su anch'io Questo gioco è bellissimo Riempio il fresatoio Io sono a 18 kg su 25 Io sono a 21 su 30 Togli la E Sei a 18 kg Che spiritoso Scusate che sei quello simpatico della famiglia Esattamente Ah beh io vado No Hai detto dieci minuti Sono passati due minuti Che infame che sei pozzato Il corso stesso del tempo è Un attimo Almeno Guarda che tiro sul lucio Non so che cavolo fa Ci vorrà un po' Perché sta riprendendo filo Se lo prendi Sì sì lo prendo Noi intendo che se prendi un trofeo Non lo puoi anche tenere Te lo do a te Te lo do a te Prendilo a te Prendilo a te Dopo Mamma mia Ah piccolo 4,70 però Posso fare ancora Due pesci Pesci Io ti ho Ricoperto la lancia E vado Ok Ecco Io tornerò qua stasera Alle 20 e 30 Fino alle 22 Che devo riguadagnarmi i soldi No ce l'ho ce l'ho ce l'ho E' così che si fa Dicevi no Sì No Non era proprio così Adesso ti impicco con la casa Che che si sta sbattendo qualcosa Stéphano Io non mi giocherò Io ciao Max Non posso giocare a questo Max Stai giocando a un entaio Sto cercando Lo vedi C'è sì Fish on Fish on Ma Stefano Non si guarda Chi è Dovresti guardarlo in game Guardati la live Killer guardati la live Ti prego Guardati la live Guarda gli occhi di Stefano Aspetta Grazie Guardatelo Guardatelo Che bello Dentro con essi Io su questo E vado io Va bene Tanto ne devo tirare su Anch'io Io sto pompando Legit Fatto bene E sta venendo su Anche velocemente Devo dire Questa è da Trofeo Mi da in due scherza Dici Dai Si possono prendere Anche le bottatrici Li ha No 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 non ci sono Si che ci sono No Si ne prende a fondo Con il gambero Questa è l'urso da 90 Ecco qua Ci ho messo meno io A tirare l'urso Ecco Guarda Ho l'ultimo pesce Da prendere Per questa giornata Lo farò adesso Devo anche cambiare La lenza Tra poco Dai sto che si farma Allora Ah io vado Più o meno Avrò fatto Sino a 3-4 mila Su 12 mila Ma in live Sentono quello che dico Ovvio Bene Non è per questo Che te la bannano Anche se Esatto Ciao Ivan Oh No Prego Senti Se dico No Dai Vai Vai Tiri su Tiri Dai Lei è un pesetto 87 Eh Lei è un pesetto Guarda il luccio Guarda il luccio Guarda il luccio Io te lo vedo Appeso al collo Come una collana Ce l'ho sul collo Si Guardati la live Si si Sto guardando Mi sono guadagnato Mille Solo con sto pesce Davvero Mille Si Figa Ah beh Ciao Ciao Dai Ultimi 5 minuti di live Poi ci vediamo Stasera O le 20 e 30 E' stato bello Conosci Preso Reale Reale No Stavo bestemmiando Un po' Quindi ho dovuto mutare Dai 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 Devo fare un pike Devo fare un pike Devo fare un pike Picquerel Picquerel Just another one Just another one Only one Si Si Sono uscito Perché adesso Lo chiudo Dai Ultimo luccio Ultimo luccio Oh No L'ha mangiato Oh si 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 Eccolo qua Eccolo qua Dire We go So Ci vediamo Alle 8 E mezza Qui live Su youtube Forse Anche prima Così parliamo Un po' Un po' L'ha mangiato L'ha mangiato Un po' L'ha mangiato Un po' Eh Resto qui Perché Devo guadagnare I soldi Che ho speso E devo Cioè Devo riguadagnarli E Soprattutto Guadagnarli un po' Per prendere Dell'attrezzatura Più putente E boom Ecco L'ultimo luccio Ora C'è La nasa piena Posso dire Che Bradash è tutto Dopo ci rivedremo Più tardi E Dunque Ci si vede Alle 8 E 30